bisogna inquadrare che cosa si intende il contesto del time management perché quello che mi sono accorto io ad esempio in questo anno in cui mi sono trovato a lavorare da remoto mentre prima ero abituato a lavorare in presenza quindi fare workshop fare corsi lavoro molto relazionale quando mi sono trovato a lavorare da remoto ho detto vabbè che vuoi che sia ho lavorato da remoto tante volte in vita mia anche coordinandomi con team con giro per il mondo con diversi fusi orari quando iniziata la pandemia io ho detto io sono un ottimo lavoratore da remoto con un'ottima gestione del tempo che sarà mai è stato e continua a essere un incubo da quel punto di vista perché il tema della gestione del tempo non è solo è unicamente limitato a come gestisci il tuo tempo è come tu riesci a gestire il tuo tempo in relazione a come gli altri gestiscono il tempo e quindi io quest'anno quest'ultimo anno ho fatto ho fatto molta fatica a proteggere il mio tempo perché appunto le persone sono tutte occupate tutti fanno 10 mila riunioni in più di quelle che facevano prima non sono mai riuscito a lavorare focalizzato ad esempio su un solo team su un solo cliente in una giornata è stato un continuo rimpallo continuo inseguire settimane di lavoro che saltavano perché non si riuscivano a incastrare le agende è una cosa che prima non mi succedeva mai e quindi ho iniziato un po un po a rivedere allora prima di tutto bagno di umiltà mio nel dire ok forse sono sono così bravo a lavorare a dare il muoto non sono così bravo a gestire a gestire il mio tempo però appunto ho iniziato ho iniziato a approfondire sull'argomento perché prima come dire ero io che controllavo il tempo degli altri perché quando vai in un'azienda viene incaricato di fare un workshop o di facilitare un team sei tu che metti l'agenda e loro ti seguono e fin lì era era tutto facile nel momento in cui ci siamo trovati lavorare da remoto anche io ho diventato sono dovuto diventare molto più bravo a fare a fare queste attività e quindi tutte le cose che ho scritto condiviso continuo a studiare quest'anno su organizzazione del lavoro organizzazione del tempo organizzazione delle riunioni riuscire ad avere conversazioni utili nel poco tempo a disposizione tenete conto che io mi sono trovato a dover fare dei corsi di formazione che prima duravano tre giornate intere full time mi sono trovato a farli in tre sessioni da tre ore quindi nel senso riuscire a essere efficaci in poco tempo è stato è stato il tema di tutto tutto il mio il mio il mio anno un po spero di non dover continuare a fare così un po vorrei non so condividere o o quantomeno sì condividere un po di cose un po di cose che ho imparato se c'è una cosa che ho imparato ecco è attenzione perché il time management individuale centra centra fino fino a un certo punto nel momento in cui si lavora con con altre persone mi diventa più una questione collettiva quindi mi chiedo sempre come si fa a passare dal del time management individuale al time management di gruppo e se sia possibile farlo a michele dice mi sono trovato a dover schedulare le chiamate al mio team gente varia per mantenere relazioni tipicamente questo tempo pausa pranzo o dopo lavoro mentre corro sì 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 anch'io tantissime persone vedo lavorano tranquillamente fino alle 11 di sera fanno dopo il lavoro quello che non sono riuscito a fare durante il lavoro queste sono tutte cattive abitudini che c'erano anche prima però sono sono tutte peggiorate in maniera in maniera in maniera esponenziale e c'è questo 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 criterio no della della agenda inversa quindi invece di considerare l'agenda come un campo con un campo bianco da riempire di eventi bisogna considerarlo come qualcosa di completamente occupato a cui sottrarre con le unghie coi denti del tempo l'unica cosa che sto riuscendo per salvare sono due mezz'ora settimana col mio team in cui non si parla di lavoro anche questo anche questo è importante io con con i miei colleghi sono stato quello che qualche mese fa ha buttato lì il il caffè virtuale quindi abbiamo messo lì due due quarti d'ora alla settimana alle due di pomeriggio con una riunione sempre aperta praticamente a tutti su zoom in cui appunto ci si trova per un caffè non si parla di lavoro perché perché altrimenti di nuovo non si fa non si fa altro che parlare che parlare di questo e soprattutto per chi come me comunque già da prima non era abitato ad avere un ufficio perché io sono quattro anni che comunque lavoro per un'azienda che non ha un ufficio quindi rapporti con i miei colleghi diretti sono sono quasi sempre virtuali però almeno prima della pandemia ogni tanto ci si vedeva assieme dal cliente ora non c'è più nemmeno quello quindi i miei clienti i miei i miei colleghi sono persone e se non lavoriamo assieme su un cliente ognuno lavora sul proprio cliente e boh anche il senso di il senso di di appartenenza svanisce svanisce completamente che credo sia anche il motivo per cui le le riunioni sono moltiplicate io sono sinceramente convinto che tante riunioni soprattutto nella prima parte della pandemia adesso non so se la cosa si stia un po' assestando però tante riunioni venivano fatte secondo me dalle persone semplicemente per vedersi e chiacchierare ho visto tante riunioni in cui la domanda che mi sarebbe venuta da dire scusate ma oggi perché ci siamo incontrati e non l'ho non l'ho mai fatta perché mi sono reso conto che le persone soprattutto all'inizio soprattutto quelle che non erano abituate non sono mai state abituate magari 15 20 anni di lavoro non avevano mai lavorato da remoto avevano bisogno di di vedersi per per noi altri c'è bisogno per noi altri tra virgolette non so non so che target sia però per chi comunque ha un lavoro e un'attitudine tale per cui c'è un minimo di possibilità di organizzare proprio tempo c'è anche un po la responsabilità magari di organizzare il tempo degli altri e di e di e di bloccarlo e di metterlo in in salvo quindi appunto l'idea di dire a un team ok sapete cosa c'è queste due ore alla settimana non parlate di lavoro oppure queste due ore alla settimana le usate per studiare bisogna essere come dire proattivi nel blindare dei dei momenti che sono che sono intoccabili alcune persone lo fanno mettono le le riunioni fantasma ad esempio e anch'io anch'io ho iniziato anch'io iniziato a farlo perché altrimenti ogni mia giornata di nuovo per me per me è stato abbastanza traumatico perché appunto prima la pandemia avevo un modo di lavorare che era quasi completa completamente nel mio controllo quindi fissavo una giornata del cliente andavo dal cliente stavo a casa stavo dal cliente una giornata poi quando lavoravo a casa da remoto potevo fare praticamente quello che mi pareva e sono stato sono stato con con questo passaggio lavoro da remoto forzato sono stato sono stato buttato in questo ambito in cui non avevo più controllo della mia agenda volavano invitation a destra sinistra ogni giorno mi svegliavo e mi sveglio tuttora e non so come andrà la mia giornata vedi oggi che pensavo fosse una giornata tranquilla in realtà poi sono successe cose e ho scazzate ho scazzato anche lo streaming e e solo ancora nel nel processo nella 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 fase in cui cercare di capire qual è il bilanciamento tra la mia gestione del tempo e quindi sì nel senso la gestione del tempo personale secondo me ci sono alcuni principi ma in particolare la gestione del tempo degli altri sembra abbastanza riduttivo al giorno d'oggi parlare di time management individuale nel senso la la pomodoro technique bella ma non puoi fare pomodoro technique per tutta la giornata e se hai un minimino di responsabilità e non sei uno che lavora appunto esclusivamente per te stesso dovrai sempre relazionarti per dovrai sempre relazionarti con qualcun altro e quindi dalla la tua gestione del tempo deve essere per forza bilanciata con la gestione o la mancanza di gestione del tempo del degli altri ci penso ci penso ci penso perché è una zona di è un po una zona di confine perché ho chiaro quali sono i principi del time management individuale ho chiaro quali sono i principi del time management alcuni principi di time management per i team di gruppo però c'è un'area grigia c'è un'area grigia tra il time management individuale quello di gruppo in tutte le situazioni che magari non sono particolarmente strutturate perché poi dipende anche dal tipo di realtà in cui sei magari non fai parte di un team sei una persona che ha supporto di più team e quindi si complica ulteriormente perché il tuo time management individuale non è il tuo time management individuale e il time management di quel team ma il time management di n team c'è un'area grigia su questo su questo mi dispiacerebbe farmi un po farmi un po la punta al cervello in effetti sto leggendo alcune cose interessanti sulle metafore cioè le metafore che usiamo per appunto descrivere il tempo e descrivere anche la produttività descrivere il lavoro perché poi le metafore che usiamo chiaramente influenzano anche il come pensiamo riguardo al tempo riguardo al lavoro e la cosa che vi ho detto prima era un esempio di questo se tu prendi un'agenda e la vedi come un campo vuoto da 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 seminare finirai sempre con un'agenda piena di cose se tu invece l'agenda la metti di default e completamente occupata stimoli un tipo di pensiero diverso quello è solo uno delle possibili cambiamenti di metafora o cambiamenti di concetto che puoi che puoi introdurre e sto anche leggendo alcune cose riguardo al al focus perché perché di nuovo tutti dicono la produttività la non produttività produttività la produttività individuale la produttività di un team però la produttività secondo me non è quello che non è uno né la misura corretta per il tipo di lavoro anche intellettuale creativo che facciamo e non è neanche quello che secondo me ci manca secondo me quello che ci manca è focus perché la nostra attenzione è spalmata su su mille cose quindi sto studiando anche alcuni elementi per cercare di capire come fare a riacquistare appunto attenzione da dove passa da quali sono i limiti anche dell'attenzione cioè cercare di capire che fino a quanto effettivamente una persona può stare attenta a qualcosa e perché e quello secondo me c'entra perché comunque sempre per il fatto che devi sempre bilanciare la tecnica alla parte se vuoi psicologica emotiva devi sempre avere una buona motivazione per farlo perché l'attenzione parte sempre da uno stimolo biochimico di di adrenalina e altro che nel nostro cervello ci permettono di portare attenzione su qualcosa quindi se non hai quello non ti salverà la pomodoro technique o la o la to do list quindi secondo me c'è di nuovo riuscire a trovare un ponte tra 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 la spiritualità e la scienza in tutto questo 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 grosso grosso minestrone fatto di lavoro di produttività di tempo in cui ci troviamo immersi immersi tutti quanti stavo pensando a una cosa io in questo momento ho cancellato